Ciao Leone, bentornato. Oggi è domenica, 27 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Qual è il tuo numero oggi? Guarda fino alla fine del video per scoprirlo. Oroscopo Leone. Protagonisti ma a mezzo servizio. Protagonisti ma a mezzo servizio perché la luna in conflitto con Urano transita nel vostro segno solo in mattinata, ponendovi al centro della scena, proprio come piace a voi. Fino a un certo punto, però, perché oggi non vi vanno tutte dritte, qualche motivo di scontro l'antico Dio del cielo ve lo propina, con un parente rompiscatole che ormai come d'abitudine vi chiama di domenica per un'emergenza, ha capito che può farla franca, così insiste. Vero, l'idea di essere indispensabili vi ringalluzzisce, tenete molto al vostro personaggio, ragione per cui vi fate in quattro per tutti, ricavandone consensi. Dopo una mattinata tutta per l'essere il pomeriggio tocca l'avere, anche se si tratterà solo di una semplice spesa al supermercato o di qualche acquisto sfizioso, dal libro a lobbistica qualcosa spenderete, ma non troppo, in fatto di affari la sapete lunga, scovando al volo occasioni imperdibili che infatti non perderete. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli, mature ed equilibrati altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. Una persona cara potrebbe farvi qualche dispetto. Prevenire è meglio che curare. Siate cauti in ogni caso. Forte ambizione. Attento a non esagerare con la voglia di comandare. Sul piatto della bilancia pesano i problemi irrisolti che vi siete trascinati contando di risolverli in momenti successivi. Ora appaiono in tutta la loro reale dimensione e alcuni di questi potrebbero schiacciarvi. Cercate di risolverni almeno qualcuno, di quelli più urgenti. Ogni persona che incontrerete oggi vi sembra accordiale come non mai, in effetti è la vostra energia che coinvolgerà le persone positivamente e vi darà tante nuove opportunità. Spese impreviste e inutili, occhio al borsellino. Moderate le spese e fate solo acquisti oculati. Siete troppo spendaccioni. Ottime prospettive, se siete nati il lunedì o il giovedì, per migliorare la propria situazione economica. Forse dovreste essere solo un po' più pratici e risoluti. Pene d'amore quasi al termine, per i nati di lunedì potrebbero trovare soluzione oggi stesso a patto però che non iniziate con le solite recriminazioni per certi versi assurde. Oggi potreste sentire il distacco di amici e partner nei vostri confronti, vivete infatti un periodo non certo brillante. In serata i single però potranno godersi eventi particolarmente effervescenti. Non buttate alle ortiche quello che avete costruito fin qua, fate tesoro della vostra esperienza e dei consigli che avete ricevuto fin qui e agite di conseguenza sia per problemi d'amore sia per problemi economici. Sarete oggi attraenti, intellettualmente brillanti, capaci di risollevare il morale anche di chi non è così fortunato come voi. Gioven gemelli, in bella posizione, è il vostro principale benefattore, specie se appartenete alla terza decade e vi guida verso svolte ragionate, nella sfera familiare e in campo patrimoniale, usando il buon senso, la capacità di lucida riflessione, l'equilibrio. Luna protagonista nel vostro segno ma solo a mezzo servizio, in primo luogo perché a penalizzarla interviene la quadratura di urano nel punto più alto del vostro cielo, secondariamente perché nel pomeriggio sarà costretta a varcare il confine entrando in vergine, dove inevitabilmente darà un giro di vita ai vostri acquisti e al vostro stile pretenzioso e costoso, come magari non vi potereste permettere. Amore ed eros. Troppo possessivi, se il partner si ritrova col collare stretto al collo rischiate che cominci a guardarsi attorno, alla ricerca di un salvatore provvisto di lì ma per liberarlo, per poi fuggire insieme, lontanissimi da a voi. Si dice che per tenersi stretto il partner è utile pigliarlo per la gola, ma per quanto vi riguarda pare il vostro ricettario non funzioni. Romanticismo e atmosfere uniche sono regalate da Venere che transita in felice aspetto per il vostro segno dal sagittario. Non manca di deliziarvi un fortissimo e illuminato Giove dai lungimiranti gemelli. La continuità familiare, le unioni solide, i sentimenti genuini avranno il favore del cielo, specie se nascete ad agosto. La dolcezza, lo slancio generoso e sincero, vi fanno ottenere, in ricambio, tutto dal vostro, o dalla vostra, partner, specie se siete nati dal 3 al 10 di agosto. Lavoro e denaro. Spesona settimanale ma cercando le offerte e i prezzi più convenienti, se il posto di lavoro traballa o non avete ancora un impiego fisso non potete permettervi abiti di lusso né vacanze da VIP, l'essenziale è che il concetto vi entri bene in mente prima che finiate in rosso. Svolgete una libera professione. Un fortissimo Giove vi dona la possibilità di nuove iniziative che guardano lontano e offrono consistenti conferme delle vostre capacità. In special modo se siete nati dal 7 al 13 del mese di agosto. Benessere. Frustrati sul lavoro o in amore, cercate consolazione in piatti abbondanti, pizze giganti o montagne di patatine fritte. Se almeno aveste la buona grazia di non annaffiarli con la birra XL che dilata, fareste un disastro a metà, è il bicchiere a renderlo intero. Denaro. Il rapporto col denaro è, per voi, come vuole il signore simbolico del vostro segno, il sole, esibito, esplosivo e, a volte, non convenzionale. Spesso siete visti come un segno prodigo, ma non sempre è così. Alcuni dei vostri compagni leoni e leonesse possono infatti anche accedere in atteggiamenti tirati, chiudendo facilmente i cordoni delle loro borse. Per lei, informissima, fan dell'estetica sapete come tenervi su, prima la palestra poi il parrucchiere, alternativa sempre valida le terme, dove oltretutto potete fare incontri interessanti, i classici due piccioni con una fava. Per lui, avere o essere? Titolo del bel libro di Erich Fromm, voi però per non saper né leggere né scrivere cambiate la congiunzione da O a E, così potrete averli tutti e due. Colore delle emozioni, giallo oro. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 7, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.